buongiorno buongiorno a tutti eccoci per la segna stampa di oggi martedì 20 ottobre è insomma inevitabile che ancora sia il virus a occupare i titoli di prima pagina di tutti i quotidiani ovviamente declinati in modo diverso molti si concentrano sulla lombardia sulle scelte della lombardia la richiesta conte del sostanzialmente il coprifuoco e vediamo il correo della sera lombardia coprifuoco dalle 23 la repubblica coprifuoco in lombardia la stampa coprifuoco comincia la lombardia il giornale coprifuoco in lombardia poi abbiamo il messaggero movita la stretta dei sindaci qui si parla dei sindaci e il solo 24 ore invece parla della manovra tracce perdute riferito al fatto che il tracciamento dei contagi non si riesce più a fare soprattutto in lombardia questo è l'avvenire poi se volete il tempo ai suoi soliti titoli incapaci di spendere un miliardo vola è libero con governo ubriaco e insomma e poi ci sta invece il riformista ce l'ha con conta bloccato il mess per pagare il pizza 5 stelle questo è il quadro della situazione come al solito partiamo dai dati i dati sono di un calo ma rispetto anche a un calo dei tamponi e quindi ci dice il correo della sera che sostanzialmente la percentuale è una percentuale che cresce il titolo è pochi tamponi ma boom di ricoveri nel mondo 40 milioni di contagiati qui ci hanno tutti i numeri se volete ieri sono stati 9.338 contagi e contagiati più 73 e però si fa riferimento al numero di tamponi che di 98.862 rispetto ai 146.054 del giorno prima e poi ci dice che negli ospedali italiani sono 7.676 i pazienti gravi 797 in terapia intensiva più 47 e poi si fa riferimento all'europa il beggio chiude bar e ristoranti per un mese il galles di nuovo il lockdown insomma la situazione è una situazione che ormai conosciamo a proposito della situazione vorrei parlare subito di qualcosa che fa riferimento al perché siamo in queste condizioni e diciamo ci sono alcuni giornali in particolare il domani che mette in rilievo i ritardi e lo fa nelle pagine 4 e 5 dice il nuovo dpcm scrive vitalba azzolini rivela i ritardi e gli errori dell'estate sprecata le decisioni continuano ad essere prese all'ultimo minuto senza essere basate sui dati nessuno li ha raccolti i controlli non si vedono e poi a pagina 5 questa seconda ondata non sarà come a marzo e è quello che dice l'epidemiologo dell'imperial college di londra il vice presidente del consiglio superiore di sanità che spiega cosa è cambiato rispetto alla prima ondata cosa si poteva fare di più e cosa invece era impossibile questo se siete interessati lo trovate sul domani ma è anche il tempo che mette in evidenza questo incapace di spendere un miliardo e il titolo a che cosa ci si riferisce dal 19 maggio stanziati i fondi per costruire terapie intensive e sono ancora tutti da usare come in primavera si affronta l'emergenza solo a mani nude l'unico affare è stato bertolaso nelle ultime 24 ore 98 mila contagi ma questo lo abbiamo visto in qualche modo anche il messaggero a pagina 8 la mette in questo modo le misure efficaci sui ristoranti ancora insufficienti per i trasporti lo screening del pc del dpcm mastroiani dell'uberto primo dice in sei a tavola va bene ma sarebbe meglio in due e sì perché non quattro e perché anzi non da soli andiamo a mangiare da solo il ristorante romagnani università differenze giusto limitare l'affluenza sui bus però in provincia non funziona e non solo in provincia se ne siamo accorti tutto il trasporto regionale cioè quello più popoloso oltre che più popolare o impopolare se volete che non funziona va bene ma passiamo direttamente al tema delle regioni perché qui prendiamo dai due principali giornali ma c'è su tutti i giornali la lombardia in lombardia in allarme vietato uscire dalle 23 e maurizio giannattasio che scrive nella pagina 2 del correre della sera il vertice della regione con i sindaci ora serve il coprifuoco si del governo fontana dice è simbolico economicamente non grave e poi a pagina 5 a pagina 3 scusate il correre della sera a fine mese 4.000 ricoveri e 600 in terapia intensiva lo scenario degli esperti che avrebbero voluto di più questo è quello che si teme cioè che alla fine del mese ci saranno 4.000 ricoveri e 600 in terapia intensiva dice a milano l'indice rt è di 2,34 e il tracciamento ormai è saltato ma gli scienziati dicono basta chiudere per quanto per quarto di giornata e vedete che poi inevitabilmente quando si va su questa linea c'è sempre qualcuno che la mette diciamo inevitabilmente in questo modo se volete sulla repubblica ci si occupa di questo nelle pagine 2 e 3 a pagina 2 sono giulia foschini e andrea montanari che scrivono la lombardia anticipa tutti coprifuoco dalle 23 alle 5 con il via libera del governo la richiesta del lanci locale condivisa dalla regione da dopodomani fino al 13 novembre chiusi nel weekend anche i centri commerciali intesa tra esecutivo e sindaci sullo stop alla movida in piazza questa è una richiesta che come avete visto arriva non solo da tutti i sindaci della lombardia ma anche dal presidente della regione quindi c'è una assolutamente inconsueta unanimità di vedute io continuo a domandarmi ma questa è una mia diciamo probabilmente non conosco non capisco ma chiudere i supermercati i centri commerciali eccetera eccetera nei fine settimana tendenzialmente più sono aperti più dovrebbero essere in qualche modo magari facendo in modo che siano contingentate le entrate ma chiudere significa che poi quando sono aperti ci sarà una maggiore calca ma ovviamente questa è una mia opinione a pagina 3 michele bocci ed alessia gallione la curva dei ricoveri e delle intensive che ha convinto ad accelerare la stretta e a milano abbiamo visto che l'rt è a 2 ed è saltato il tracciamento non c'è più tempo insomma questo è il quadro di quello che accade in in regione e a questo punto però vediamo anche cosa ne pensano i sindaci in regione lombardia in particolare vediamo cosa ne pensano i sindaci del dpcm perché c'è stato uno scontro durissimo ce ne parlano tutti i giornali comincerei dal Corriere della sera pagina 5 i sindaci lo scontro con il governo e le riunioni sulle piazze da chiudere le telefonate le liti nella lunga notte del pc e del dpcm da bari a roma liste con i luoghi da transennare e qui ci sono una serie di interviste ai sindaci in particolare viene intervistato il sindaco di firenze in ardella nel taglio basto della pagina della pagina 5 dove c'è l'articolo di monica guerzoni che è intervistato da fabrizio caccia servono regole chiare devono destinare a noi i poliziotti degli stadi firenze dice nardella senza risorse non si fa nulla nella chat dei sindaci l'altra sera correva tanta rabbia inutile chiudere le piazze se non le puoi controllare e questo è sono parole anche abbastanza sagge direi di nardella se volete sul stampa pagina 7 c'è anche un sindaco del sud che è de magistris che viene intervistato da da nicolò caratelli da conte troppa ansia così non è una pandemia ma un pandemonio il sindaco di napoli dice è sbagliato accusare i ragazzi e ancora dice il premier col suo messaggio sbagliato ha invitato tutti i cittadini a rivolgersi al sindaco e poi dice però ma noi non abbiamo risorse per assumere nuovo personale nella polizia municipale così abbiamo preso un sindaco del nord un sindaco del sud e mi pare che le critiche nei confronti del governo siano praticamente unanimi ma c'è un tema perché sul virus ci sono i rigoristi e i tolleranti è il titolo di pagina 7 del correre della sera perché anche qui si apre e quello che vi diciamo da giorni che sicuramente incertezze quello che volete all'interno del governo scusate nella maggioranza tra i politici quello che volete ma il problema è poi quando questo si scatena tra gli esperti cosiddetti esperti quelli che ci dovrebbero guidare e fiorenza sanzanini firma articolo rigoristi contro tolleranti così si spacca il cts il cts che è il comitato tecnico scientifico che è quello che dovrebbe indirizzare indirizzarci per la prima volta consegnato al governo un documento non unitario la rottura sulla chiusura di palestre e piscine i nomi e le posizioni e qui ci sono giuseppe ippolito che è il direttore scientifico dell'istituto spallanzani di roma silvio brusaferro che è presidente dell'istituto superiore di sanità e poi il coordinatore del comitato tecnico agostino miozzo e ancora massimo antonelli del reparto di ne state siete la più intensiva del politico gemelli di roma insomma se volete poi nel taglio basso la risolve tutti il famoso zangrillo che dice il virus sta morendo proteggiamo i nonni ma dico no al terrorismo e così insomma è vero c'è questo dibattito che ormai diciamo si prendevano in giro i politici la maggioranza perché c'erano i rigoristi e i tolleranti e vediamo che questo riflette paro paro quello che accade nel mondo scientifico il che sotto un certo punto di vista non aiuto perché avete visto zangrillo ma allora se volete ci becchiamo un buon crisanti che dice giusto bloccare la movida per salvare lezioni e lavoro a proposito di virus che sta scomparendo il messaggio è chiaro limitare al massimo i contatti sociali e per il futuro un nuovo lockdown è improbabile non potremmo servire non potremmo non potrebbero ma potrebbero servire nuove misure se questo decreto non fosse stato promulgato saremo arrivati alla situazione francese segnaliamo che non è un decreto ma è un dpcm sì o comunque decreto il presidente del consiglio non decreto legge dal cts decisioni poco chiare forse il governo dovrebbe iniziare a consultare anche altri esperti insomma magari si riferisce a se stesso grisanti ma resta il fatto che vedete come plasticamente anche gli esperti diciamo non ci aiutano perché zangrillo grisanti parole assolutamente una diversa dall'altra e allora se volete il giornale nelle pagine 6 e 7 e a proposito delle cose che vanno non vanno c'ha un perché sì rispetto al decreto che viene da patricia tagliaferri decreto troppo soft chiusure mirate ora o sarà come a marzo virologi e medici favorevoli a misure decise e veloci per salvaguardare il natale a rischio milano napoli roma non c'è più tempo però se andate nella pagina accanto ludovica bullion per il cts va bene così salvi salute affari i locali è già troppo i settori colpiti dalle nuove regole chiedono contributi a fondo perduto allo stremo ristoranti bar congressisti per noi un colpo mortale insomma e poi appunto ci sono il perché sì e il perché no che sono individuati in due articoli uno di paolo guzzanti il perché sì e uno di marco gervasoni il perché no se volete trovate tutto sul giornale nelle pagine 6 e 7 bene andiamo avanti c'è alcuni settori che rischiano di saltare oltre quelli che abbiamo visto delle ristorazioni bar eccetera eccetera ma uno di questi è lo sport va dato merito alla stampa se ne occupa con due pagine nella pagina 7 e 8 scusate 8 e 9 il rebus dello sport ci si può allenare ma senza partite le nuove norme anti covid niente gare o tornei e gli leiti senza una società dovranno fermarsi e poi invece a pagina 9 gestori delle palestre e piscine non siamo i focolai d'italia i centri fitness chiuderanno l'anno con perdite del 50 per cento abbiamo seguito ogni regola ecco questo è il tema che ponevamo ieri cioè ci sono alcuni settori quello delle palestre per esempio che hanno investito anche per seguire le regole che erano state date nel periodo peggiore all'uscita dal lockdown hanno investito parecchio ora è giustissimo fare controlli e penalizzare chi non rispetta quei protocolli ma chi è investito per rispettarli perché deve essere chiuso perché magari c'è qualcuno che non li rispetta questa è la domanda penso che legittimamente si fanno molti titolari di palestre piscine e compagnie cantando ovviamente c'è il tema della scuola che è un tema a parte nel senso che è dentro la vicenda del virus ma con tutte le sue implicazioni andiamo sul Corriere della Sera pagina 9 scuola e orari paletti del ministero si cambia soltanto in casi critici la nota pubblica dopo le proteste dei presidi la flessibilità sarà gestita nell'ambito dell'autonomia anche qui ci sono testimonianze di due provveditori uno della Lombardia e uno di Roma la Lombardia dice già dura ora e pomeridi orari pomeridiari inutili e invece per Roma servono soluzioni di buon senso questi sono i due provveditori ma di scuola si occupa anche la repubblica pagina 6 vediamo tutto scuola pomeriggi di pomeriggio al sud è impossibile senza bus e bidelli in molte regioni del nord l'orario scaglionato per le superiori è già in realtà da Lazio alla Puglia i dubbi dei presidi vertici con i comuni sui trasporti perché ovviamente questo è l'orario scaglionato è una buona idea ma se poi è difficile da realizzare diventa può diventare anche un boomerang e c'è il messaggero a pagina 7 sempre molto attento alla scuola il messaggero bonus scusatemi a pagina temo di avere sbagliato la pagina ecco qua pagina 4 l'alto là della solina gli orari li fissano i presidi e il tar sta con deluca una circolare derubrica doppi turni e ingressi differenziati a mera indicazione i giudici amministrativi respingono il ricorso contro le chiusure della campagna insomma la scuola è certamente un problema ne parla anche l'avvenire a pagina 7 ma facendo riferimento a una categoria più vasta che quella degli emarginati così richiama il ha ragione il l'avvenire i nuovi emarginati senza internet oltre 3 milioni e mezzo di famiglie escluse dalla vita digitale nel lockdown niente telelavoro o lezioni a distanza la denuncia del rapporto audit e census altri 6 milioni di nuclei senza rete fissa e con un solo cellulare insomma partendo dalla scuola poi vediamo che le maglie della immarginazione inevitabilmente si allargano se c'è qualche speranza riguardo il vaccino ce ne parla a pagina 5 della stampa con paolo russo prime dosi in autunno no in primavera sul vaccino scienza e politica non si parlano ecco qua conta il governo vogliono accorciare i tempi ma gli esperti frenano ricciardi dice tempi destinati ad allungarsi serviranno due somministrazioni vi ricordate che ci abbiamo detto che già in autunno avremmo avuto il vaccino però comunque questo vaccino speriamo che arrivi il prima possibile al di là delle diatribe perché diciamo pare essere l'unica possibile soluzione c'è tutto il tema della app della app immuni che addirittura si è letto qualche giorno fa o ieri forse proprio addirittura qualcuno la vorrebbe come presente il consiglio obbligatoria e vespiniani che è il che è un ricercatore a boston è intervistato da riccardo luna e dice immuni non va deve diventare un app utile e aiutarci a fare subito il test se arriva la notifica di un contatto a rischio il paziente adesso è solo vanno creati call center per dare supporti immediati dal medico con cui parlare alla prenotazione del tampone è anche questo diciamo non è un argomento all'apparenza sbagliato è anche il giornale a pagina 5 che con uno spirito certamente più critico maria sorbi fuocorai fuori controllo idea immuni obbligatoria vedete quello che vi dicevo prima che se qualcuno sta pensando visto che nessuno ha scaricata che questa diciamo app debba diventare in qualche modo obbligatoria bene se volete a proposito della difficoltà di tracciare che sia l'app o meno vi segnalo l'avvenire come vi dicevo il titolo in prima pagina tracce perdute cresce l'indice di positività e il tracciamento dei contagiati non si riesce a fare e questo è il problema che mette in evidenza anche l'avvenire che abbiamo visto in tanti articoli in particolare per quel che riguarda la lombardia poi vi segnalo da ultimo sul sulle questioni del virus è una veramente singolare diciamo cosa che qualcuno avrà pure pensato ad essere giusta io penso che sia la definitiva resa della politica perché leggiamo il caso eme elena emanuela minucci sulla stampa pagina 11 conte a ruola fedez mascherina sempre convincitui giovani gli esperti di comunicazione seduce il mix di tatuaggi e mulino bianco ora se una istituzione come il governo quella che ci dovrebbe guidare quella che dovrebbe mettere in campo messaggi chiari che parlino ai cittadini che diciamo li convincano a rispettare le regole per dicendo deve ricorrere per carità tanto di cappello a fedez e ferragni che fanno sicuramente il loro mestiere e dovrebbero fare il loro mestiere per parlare ai giovani io penso che sia la resa del governo della politica di tutto sono francamente allibito da questa decisione del governo ma poi ci sarà a casa che avrà dato questa geniale idea a conte bene però adesso dobbiamo avere dei commenti perché ce ne sono molti e dai commenti capirete subito che il governo non è in buone acque nell'opinione dei commentatori dei giornali cominciamo dalla repubblica francesco bei conte la linea soft alla prova dei fatti è un prima pagina e prosegue poi a pagina 27 e tra l'altro scrive francesco bei fa riferimento alla lombardia che si arrende alza bandiera bianca e dice si può star certi che il primo ad essere rimasto spiazzato da questa richiesta lombarda sia stato il presidente del consiglio giuseppe conte ha infatti impostato la sua strategia sulla riduzione del danno mettendosi decisamente alla testa di quella parte del governo contrario ai drastici case come quelli proposti dai ministri speranza e franceschini da qui il dpcm faticosamente partorito domenica sera con quella panoplia di micro interventi tutti molto circoscritti forse troppo tanto da avere provocato la sollevazione dei sindaci per l'unico punto davvero rilevante non a caso un lockdown dei quartieri della movida perché è evidente che un conto è vietare le sagre di paese altra cosa è limitare la libertà dei giovani di girare a piacimento per le nostre piazze dalle 21 commenta è chiamato dunque a verificare in tempi molto rapidi se la linea anti chiusura la stessa che lo ha messo per la prima volta in sintonia con i governatori del centro destra sia ancora perseguibile alla luce delle notizie che arrivano dal nord aveva scommesso sull'economia e sulla ripresa e si ritrova a dover richiudere lo farà si può star certi che fino all'ultimo proverà a resistere e non arriverà a bloccare il cuore produttivo del paese le fabbriche della pianura padana giuseppe pasini presidente della confindustria brescia titolare di un'azienda metallurgica che non consente certo lo smart working ieri è stato chiaro non possiamo permetterci un'ulteriore chiusura delle aziende suonano sinistri gli schicchioli che iniziano ad arrivare da alcuni centri studi sul quarto trimestre che si pronuncia decisamente meno positivo del terzo giulio tremonti uno dei pochi ad aver previsto il collasso del 2008 2009 ha ricominciato a gridare come una cassandra ma quale ripresa impetuosa credo che la strada che abbiamo davanti sia drammatica la presidente della bce crisi in lagarde ieri sulle mondi ha invitato a fare presto con il recovery fund perché la seconda ondata epidemica le nuove misure restrittive che l'accompagnano pesano sulla ripresa in europa ha parlato di una situazione che può peggiorare e di previsioni che possono diventare fosche è questo lo spettro che ha di fronte conte che conosce queste previsioni gli arzigogoli sul patto di legislatura e i balletti eterni sul mess rischiano presto di essere travolti dalla realtà a ragione il premier quando dice che quei 36 miliardi di prestiti sanitari a tasso zero non sono la palacena dei mari italiani ma a differenza di quelli del next generation you hanno il pregio di arrivare presto entro un mese ha presentato ha precisato ieri i voltieri e il tempo è diventato ormai la risorsa che scarceggia di più così francesco bei sulla repubblica il vice direttore di repubblica ma c'è anche marcello sorgi vedete dal titolo della stampa che le cose già iniziano a virare nei confronti del governo salvateci almeno il natale anche in questo caso bisogna andare nella pagina 27 della della stampa e tra l'altro scrive marcello sorgi da venerdì il giorno della soglia di 10.000 battuta si erano lasciate circolare voci che andavano dalla chiusura serale dei ristoranti al coprifuoco parola scelta non a caso nei centri urbani delle città affollate da giovani nei weekend alla chiusura delle scuole superiori al ritorno del locale da un vero e proprio temporale locale natalizio versione quest'ultima tuttora non esclusa poi si è preferito mettere al primo posto la ripresa economica almeno quel po che c'è lasciando al secondo l'emergenza di saluto dopo averla alimentata e ai sindaci il problema di chiudere o meno le vie più affollate la ragione di tutto ciò è che nell'agenda del governo per questo fine settimana c'era la presentazione della manovra economica con il lungo elenco di aiuti alle categorie che comporta e il ministero il ministro Gualtieri dopo tanto lavoro per consegnarla non accettava di vedere passare in secondo piano rispetto al solito covid un problema di programmazione nell'affollato palinsesto di palazzo chigi di cui è nata l'alleanza tra conto e da sempre schierato sulla linea della prudenza e Gualtieri che insieme l'hanno avuta e vinta sul duo allarmista o forse no franceschini speranza battuto in extremis nel pomeriggio domenicale ma è già dato sapere che presto gli sconfitti cercheranno la rivincita in nome del diverso atteggiamento dei paesi alleati vedi francia vedi germania vedi spagna e magari dio non voglia la otterranno in quel caso che purtroppo si annuncia probabile prossimo di fronte all'evidente mancato adeguamento delle strutture sanitarie che pure era stato promesso per l'estate tal che non solo la Movida ma ben altre sono le responsabilità del motivato allarme di questi giorni ci permettiamo di inoltrare una supplica sperando che sia accolta salvateci almeno il Natale le famiglie numerose o allargate come si dice adesso che già si riuniscono adesso in aperta violazione dell'inapplicabile divieto di pranzi privati con più di sei persone nelle case private ringrazieranno salomieri macellai pescivendo di primarie categorie commerciali specie nelle festività dovranno daranno prova di straordinaria efficienza effettuando il servizio a domicilio ed evitando assembramenti nei loro esercizi dopo aver chiuso troppo a lungo le chiese sarà giusto permettere anche le organizzazioni caritatevoli di organizzare come hanno sempre fatto i festeggiamenti per i più poveri per un giorno il giorno della festa più amata in un paese cattolico sia dunque possibile con giudizio ovviamente dimenticarsi del coronavirus esprimendolo con due mesi di anticipo speriamo davvero che il presidente Conte devoto di San Padre Pio voglia esaurire questo desiderio e vedete che un po' caustico sorgi sulla stampa ma c'è anche il domani che piazza un editoriale di Nadia Urbinati che così si intitola quel sottile piacere dello scaricabarile vedete come aumenta diciamo la critica nei confronti del governo e scrive tra l'altro alla Urbinati concludendo il suo articolo in poche parole l'emergenza è stata decentralizzata il sottile piacere si percepisce anche nel ruolo assegnato agli attori pubblici periferici che saranno d'ora in poi direttamente sotto i riflettori della critica molto più di prima sembra quasi che Giuseppe Conte abbia voluto riscattarsi delle critiche che si è tirato nei mesi duri della scorsa primavera quando perfino la leader della destra Giorgia Meloni dichiarava di vivere sotto dittatura tutto quel discettare di centralismo di statalismo e perfino di sovietismo ci ha accompagnato per mesi e ora ora molti di questi vecchi critici si fanno critici per opposte ragioni perché il governo scaricherebbe le responsabilità sui territori giocando la carta della cittadinanza responsabile i sindaci e i presidenti di regione in prima linea Palazzo Chigi defilato i presidenti di regione hanno in questi mesi accresciuto la loro autorità e visibilità spesso entrando in tensione con l'amministrazione centrale nel tentativo di rivendicare un potere decisionale che il governo di Roma sembra voler loro togliere il titolo quinto della costituzione affida la tutela della salute alla legislazione concorrente tra state e regioni delineando un sistema di pluralismo di centri di potere che ha ampliato il ruolo e le competenze delle autonomie locali ma anche la tensione con Roma con la pandemia le regioni hanno acquisito un ruolo straordinario ebbene sembra che le critiche di centralismo autoritario abbiano sortito l'effetto di mettere i presidenti di regione in prima linea come del resto chiedevano lo Stato si impegna con finanziamenti alla scuola e alla sanità ma il governo dei territori ha messo di fronte alle proprie responsabilità nella gestione delle misure del Covid così l'ha urbinati sul domani in prima pagina e mi pare che il più pesante di tutti sia Campi sul messaggero che da un po' di tempo non ha molto a ben volere Conte e scrive Campi il titolo all'indecisione del governo che genera confusione ci sono le decisioni incongure, quelle inapplicabili, quelle ingiustamente penalizzanti, quelle inutili e le non decisioni. Del DPCM illustrato l'altra sera dal Premier le cinque tipologie sono magicamente tutte presenti a conferma della sua sostanziale inutilità e del fatto che lo scontro all'interno del governo tra antirigoristi, lo stesso Conte, Gualtieri e Di Maio che segnano preeminenza alle attività economiche e alla ripresa e rigoristi Franceschini e Speranza per i quali la priorità è in questo momento la salute pubblica e il contenimento dei contagi con ogni mezzo non ha ancora trovato un punto di equilibrio aspettiamoci a breve altri decreti e ahimè altri annunci a rete unificate si sono dunque adottate misure in grado di contrastare l'emergenza che stiamo vivendo? c'è da dubitarne certo sono state vietate con De Luca che ha fatto da apripista con le sue imbettive contro Halloween le sagre e le fiere di paese che producono inevitabilmente affollamenti ma che senso ha dal punto di vista sanitario consentire comunque le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale? del pari non si comprende come limitare le attività di sale gioche, sale scommesse e sale bingo dalle 8 alle 21 possa aiutare a prevenire o contenere i contagi ci si infetta solo di notte? si domanda Campi che poi prosegue nella pagina 24 del messaggero ci andiamo subito e poi fa riferimento a tutta un'altra serie di questioni ma dice ancora la razio, dice Campi di queste misure incongure e assai blande frutto evidentemente di una mediazione estenuante tra ministri ma anche tra governo e regioni è chiarissima si sta cercando di affrontare l'aggravarsi della situazione attraverso limitazioni mirate e settoriali ma il rischio serio è che alla fine non funzionino i danni economici che si evitano oggi potrebbero rivelarsi più grandi domani nel caso questa strategia dei piccoli passi che significa come già la scorsa primavera un DPCM dopo l'altro dovesse rivelarsi errata per mancanza di contagio e poi fa riferimento a tutta un'altra serie di cose dice le misure che difficilmente potranno essere concretizzate si fa riferimento agli orari di ingresso e di uscita degli alunni nelle scuole e poi si parla di quelle penalizzanti e discriminanti quelle che riguardano il mondo sportivo del tutto inutili al limite delle eccentricità appaiono altre scelte nelle zone più alte incidenze epidemiologiche sono stati sospesi gli esami di scuola guida infine le non decisioni quelle che danno il senso di un governo che non riesce ad adottare una linea di condotta chiara che temporeggia e che cerca di non addossarsi troppe responsabilità e si fa riferimento ai trasporti pubblici e conclude così Campi non parliamo infine della non decisione più clamorosa quella che in un primo momento assegnava ai sindaci il potere di chiudere per la notte strade, piazze e luoghi di ritrovo per evitare assembramenti e contagi alla fine il riferimento ai sindaci è stato eliminato dal DPCM la responsabilità a livello territoriale tocca, come ha precisato ieri il Viminale ai comitati provinciali di ordine pubblico dunque ai prefetti di intesa con i primi cittadini e le autorità locali ma la sostanza non cambia per paura di vedere associata al governo e a conte la parola coprifuoco quella utilizzata senza remore dal presidente francese Macron nei giorni scorsi allorché ha annunciato la limitazione alla vita notturna decise dal suo governo per contrastare la pandemia si è preferito scaricare su livelli istituzionali più bassi una scelta che per essere efficace visto l'andamento esponenziale dei contagi su tutto il territorio italiano dovrebbe essere assunta a livello politico centrale con validità nazionale il risultato che già si vede è che ognuno andrà per conto suo la Lombardia ha già annunciato il divieto di circolazione notturna dalle 23 alle 5 il sindaco di Bari ha annunciato a sua volta la chiusura di 15 strade e piazze nella zona della Movida della sua città ma questa non è autonomia è confusionismo politico insomma se la situazione è seria e preoccupante come ci viene detto proprio dal governo ogni santo giorno forse converrebbe agire di conseguenza e senza troppi indugi con determinazione così come si ha detto a un passant se la situazione della sanità pubblica è davvero a rischio come sembra per mancanza di personale strutture e risorse perché non risolversi ad utilizzare i soldi del Messi invece di continuare a farne come appunto stanno facendo Conte e Grillini una bandiera ideologica o peggio una merce di scambio tra alleati di governo il tutto nell'attesa del prossimo DPCM probabilmente anch'esso inutile o tardivo ecco insomma questa è mi pare la chiusa di Campi può consentirci anche di chiudere questo tema ma avete sentito la fine dell'articolo di Campi parla del MES e insomma oggi di MES ne parlano anche altri giornali lo vediamo sulla Repubblica pagina 12 e 13 perché? perché a pagina 12 si fa riferimento ammesso che riusciamo ad andarci si fa riferimento a quello che accade in Italia MES lo stop di quantieri scuota il PD Conte a Zingaretti ok alla verifica il ministro del tesoro serve solo a risparmiare 300 milioni l'ite sulla chat di partito il leader Dem attacca il premier e poi lo chiama discutiamo su del fondo salva stati insieme ad un nuovo patto di legislatura e va bene ma poi vediamo che quando si dice che il MES non lo utilizza nessuno non è esattamente così o perlomeno potrebbe non essere così perché Gonzales Laia che è la ministra degli esteri spagnola dice nell'articolo a pagina 13 nell'intervista di Alessandro Hoppes dice pronti a usare quei soldi dell'Unione Europea se ne avremo bisogno la vera ripresa dell'economia potrà iniziare soltanto quando il vaccino arriverà a tutti i cittadini dell'Unione Europea questo è quello che dice la ministra degli esteri spagnola ma di MES si parla anche sul riformista perché in prima pagina c'è il richiamo ad un articolo di Emma Bonino che dice la strategia di Conte ha bloccato il MES per pagare il pizza e i crillini se volete potete andare a pagina 7 del giornale diretto da Sanzonetti e trovate questo articolo di Emma Bonino che dice non è vero che serve a risolvere i problemi di liquidità e a finanziare spese già fatte sul MES il premier non brilla certo per onestà e quando paventa l'effetto stigma sposa la linea sovranista di Salvini fenomenale e dice ancora è incredibile che a rinunciare al MES sia un governo impegnato a gestire una nuova emergenza contagio con ridardi evitenti proprio sul fronte sanitario e insomma non ha tutti i torti Emma Bonino in queste considerazioni sul tema dell'utilizzo del MES ma a questo punto vediamo due commenti oltre le parole di Emma Bonino che sono quelle di Veronica De Romanis sulla stampa in prima pagina e poi prosegue nella pagina dei commenti a pagina 27 tra l'altro dice in una fase incerta come quella che stiamo vivendo sapere con chiarezza quali siano le scelte che intende fare il governo è fondamentale per i cittadini ciò che però lascia perplessi sono le motivazioni in particolare quelle relative allo stock del debito e al suo costo Conte ha spiegato che le risorse del MES sono dei prestiti e quindi vanno incrementate vanno ad incrementare il debito pubblico è certamente vero scrive De Romanis ma ciò vale anche per quelle dello Shure lo strumento europeo che il governo ha attivato per 27,5 miliardi a favore del mercato del lavoro e per quelle del Next Generation EU pari a circa 110 miliardi di euro gli altri sono sussidi del resto anche i 100 miliardi stanziati in questi mesi sono debito supplementare in altre parole il debito in più che sia europeo o italiano va sempre a aumentare lo stock esistente come ha spiegato Conte ha spiegato che deve essere messo sotto controllo nel caso specifico dei fondi del MES ha chiarito che il governo dovrà intervenire con più tasse e taglia la spesa insomma il ricorso al MES implicherebbe il ritorno della tanto odiata austerità il resto del debito invece no pare di no dice la De Romanis che conclude la linea pandemica del MES è stata negoziata in Europa dal ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri l'obiettivo della delegazione italiana era quello di poter disporre di una linea di credito in tempi brevi e con condizionalità legata unicamente alle spese sanitarie per far fronte all'emergenza l'accordo chiuso a Bruxelles ha accolto la totalità delle nostre istanze e infatti fu proprio il premier a salutare con entusiasmo l'esito del lavoro svolto questa linea mette a disposizione dell'Italia circa 37 miliardi di euro di debito europeo da utilizzare nell'immediato a costo zero se avessimo aderito in primavera oggi avremmo un sistema sanitario più forte nell'affrontare la seconda ondata del virus perché i soldi sarebbero stati utilizzati sotto la vigilanza europea per le terapie intensive i tamponi i termoscanner e oppure il governo continua a finanziare la sanità con debito italiano in particolare la bozza di legge di bilancio prevede circa 4 miliardi di nuove risorse che rispetto a quelle del MES costano circa 40 milioni l'anno in più di spesa per interessi ossia di maggiore debito anche per questo debito il premier intende ricorrere a nuove tasse o a tagli di spesa è bella domanda e mi pare che De Romanis metta con chiarezza in evidenza quanto sia scellerata l'idea di non utilizzare i fondi del MES e sotto questo punto di vista fa sponda anche un giornale dell'opposizione ma che è squierato a favore del MES ed è quello è il giornale di Sallusti con Alberto ad Alberto Signore che in prima pagina e poi nella pagina 6 lei si occupa esattamente di questo e tra l'altro dice signore conclude così il suo intervento il ministro dell'economia Roberto Guattieri infatti teorizza da tempo il rischio dello stigma nel caso l'Italia sia l'unico paese a utilizzare quella linea di credito il che potrebbe portare ad un aumento dello spread e anche il governatore di Banca Italia Ignazio Visco è dello stesso avviso ragion per cui Nicola Zingaretti si sarebbe alla fine convinto a metterlo da parte il tutto però doveva essere gestito sotto trascia senza che Conte infilasse un dito nell'occhio al PD davanti a 18 milioni di italiani non a caso ieri i Dem hanno rivendicato la bontà del meccanismo europeo di stabilità costretti dagli eventi a insistere pubblicamente per un confronto sul tema che in realtà non vogliono affatto una cosa era lasciar cadere il messo nel dimenticatoio altra era farlo diventare argomento di scontro politico e concederlo in scalpo agli stati generali del Movimento 5 Stelle nonostante l'acceso confronto sul DPCM però le priorità del Premier era fa sponda al Movimento e così per 48 ore tutti a parlare del MES pazienza se la questione ha fatto fibrillare non poco la maggioranza nonostante il tentativo di ieri di veicolare un messaggio di unità con la conferenza stampa congiunta tra Conte e Gualtieri tensioni che molto probabilmente continueranno se è vero come sostengono nel PD che Conte sta cercando una copertura nel Movimento 5 Stelle perché teme di saltare a giugno quando la tornata amministrativa potrebbe esancire una complessa vittoria ed Edem si vota tra gli altri nei capoluoghi di peso come Bologna Milano Napoli Roma e Torino e il semestre bianco ormai sarà alle porte così il giornale sul tema e possiamo chiudere anche con questo sul MES e affrontare la manovra perché la manovra comunque sia come avete visto viene analizzata dai giornali l'abbiamo visto soprattutto nelle giornate precedenti in particolare ieri ma anche oggi si trova qualcosa in particolare pagina 10 della Repubblica sul PIL l'illusione è finita in inverno si rischia il ritorno alla crescita zero e Confindustria lo vedremo tra poco l'aumento dei contagi e il calo degli ordini non fanno ben sperare per il quarto trimestre in ottobre meno 6,7% nei consumi elettrici rispetto a settembre dicevo lo vedremo perché il sole 24 ore su questo attacca in prima pagina con le parole di Bonomi ma vediamo ancora delle cose perché poi guardiamo gli altri giornali per esempio il tempo a pagina 5 la mette così fino a 200 euro per ogni figlio il governo presenta il documento di bilancio 8 miliardi per ridurre le tasse il super bonus per ora finisce nel 2021 e questi fino a 200 euro per ogni figlio è riferimento all'assegno di famiglia quello l'assegno unico che diciamo la riforma che ha voluto Italia Viva il ministro Bonetti su cui ha lavorato nei mesi scorsi e che è stata lanciata la Leopolda in occasione della nascita di Italia Viva cioè esattamente un anno fa e se andiamo sul messaggero a pagina 7 invece viene diciamo evidenziato il tema del bonus bonus facciate c'è la proroga ma è giallo sui tempi del 110% la maxi di trazione durerà solo fino al 2021 scontro nel governo sulla durata di rennale mancano le coperture finanziarie si dovrà attendere l'arrivo dei soldi del recovery fund e come vedete siamo sempre appiccicate i soldi che devono arrivare dall'Europa ma a questo punto segnalo il sole 24 ore in prima pagina Bonomi dice Italia lasciata in confusione il presidente di Confindustria a Verona dice la manovra è emergenza non ripartenza unici in Europa a bloccare licenziamenti quota 100 è furto di futuro ai giovani e poi ancora questa era Nicoletta Picchio che parla delle parole di Bonomi che poi sono riportate a pagina 3 e dice tra l'altro non ho sentito parlare di Industria 4.0 va messa in legge di bilancio in modo forte e strutturale non vogliamo essere unici in Europa sul MES ma lo siamo sull'alt ai licenziamenti vedete molto duro Bonomi e poi c'è un'analisi di Marco Rogari e Gianni Trovati che parlano della manovra spese da 28 miliardi più 3 risparmiati dalla CIG 2020 deficit abbassato al 10,5% nessun dato nuovo sui progetti del recovery e insomma c'è anche il commento di Guido Gentili credibilità in deficit chi decide per fare che cosa e con quali prospettive la seconda ondata di Covid-19 è arrivata nel paese dopo che è stato bruciato tempo prezioso per tenerla sotto stretto controllo fin dal suo apparire e si ritrova oggi spiaggiato all'incertezza a metà strada tra emergenza permanente un futuro promesso in evidente deficit di credibilità questo tra l'altro gentile sul sole 24 ore e con questo possiamo chiudere la parte di ricostruzione diciamo di quelle che sono i dati della manovra ma invece vi segnalo un commento anche qui tutt'altro che positivo di Carlo Cottarelli sul Repubblica ha in prima pagina una manovra a corto raggio e poi prosegue nella pagina dei commenti la pagina 27 Cottarelli che vediamo subito e scrive tra l'altro facendo riferimento a come incide la ripresa del Covid per esempio a proposito del PIL che era previsto al 6% per il 2021 rimbalzo che sarà impossibile per come stanno andando le cose e dice tra l'altro Cottarelli la manovra come attualmente prevista è grazie al sossegno delle risorse europee è comunque di importo significativo si tratta di 39 miliardi tra aumenti di spese e tagli di tasse che verrebbero finanziati senza il ricorso a misure compensative di rilievo le coperture sarebbero in deficit 24 miliardi e in sovvenzione a fondo perduto dall'Europa 15 miliardi ci si è allontanati quindi chiaramente dall'intenzione inizialmente espressa da Qualtieri di fare una manovra a saldo zero la manovra potrebbe il deficit dal tendenziale del 5,7% del PIL al 7% del PIL seppure in discesa dal livello record del 2020 10,8% sarebbe comunque un livello elevato ma ci può stare vista la debolezza del quadro economico nel 2021 il problema è semmai quello che accade negli anni seguenti se nell'immediato un'azione espansiva finanziata in deficit è accettabile le misure incluse nella manovra hanno almeno per la metà effetti permanenti sui conti pubblici naturalmente non si poteva evitare di introdurre misure utili solo perché comportavano effetti permanenti ma il punto fondamentale è che al momento non sono previste misure compensative neppure oltre il 2021 il che significa che queste misure continueranno a pesare sul deficit pubblico in modo duraturo ora qualcuno mi verrà a dire che anche il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente ammonito contro il rischio di una prematura riduzione del sostegno dato all'economia dalle politiche di bilancio ma il resto è il fatto che il governo pur prevedendo un ritorno del nostro PIL ai livelli pre-Covid già nel corso del 2022 intende mantenere il deficit pubblico anche nel medio termine ben al di sopra di quello registrato nel 2019 1,6% del PIL nel 2023 il deficit sarebbe ancora al 3% del PIL nonostante le previsioni per quell'anno di spese finanziate da un altro di 1,4% di PIL in sovvenzioni europee fuori bilancio conseguentemente il rapporto tra debito e pubblico PIL e PIL scenderebbe solo molto lentamente torneremo al livello del 2019 solo nel 2030 dobbiamo solo sperare che le risorse che ci stanno arrivando dalla BCE e dall'Unione Europea continuino a fluire senza sorpresa nel prossimo decennio e dobbiamo anche sperare che l'abbondanza di risorse europee non riduca l'incentivo ad essere efficienti e il rischio richiamato di recente da Confindustria di trasformarci in un sussidistice vabbè ci siamo capiti in proposito sorge una domanda legittima si intende finanziare il deficit anche le maggiori spese per il sistema pensionistico che il governo sembra intenzionato a stanziare per evitare lo scalone causato dall'estinguersi di quota 100 a fine 2021 concludo con un commento sulle specifiche misure anche se necessariamente breve e preliminare alla luce della scarsità di informazioni disponibili sembra andare nella direzione giusta a parte le inevitabili misure emergenziali l'enfasi su sanità pubblica istruzione compreso il necessario aumento di spesa per la selenido e ricerca è del tutto appropriata una domanda però avevamo davvero bisogno di altri insegnanti o il problema della scuola è invece quello di avere insegnanti poco formati e sottopagati insomma così Cottarelli parla della manovra c'è poi in tutto questo le tensioni all'interno del governo e qui ritorniamo un po' alla cronaca politica perché sulla pagina 10 del Corriere della Sera il titolo del retroscena di Francesco Verderami è Conte Zingaretti tensione sul Messe poi la tregua patto di legislatura la telefonata con il segretario dem anche Renzi preme per il fondo il premier attenua e toni ne parleremo e propone un tavolo a novembre scusatemi questo è Marco Galluzzo invece il retroscena è quello di Francesco Verderami che dice per il capo dell'esecutivo arriva il calo dei consensi costretto a una verifica che può ridurne il potere in un sondaggio i dubbi sulle strategie nell'emergenza ecco qua e i sondaggi come vedete sono sempre quelli che guidano poi le decisioni e invece dovrebbero essere le decisioni che dovrebbero produrre effetti riscontrabili nei sondaggi ma sappiamo che le cose non vanno più così però a proposito della situazione del governo anche la stampa dedica molto spazio sono le pagine 12 e 13 a pagina 12 Messe Lira di Zingaretti contro Conte Gualtieri fa da sponda per il premier e poi c'è il retroscena questo era Carlo Bertini mentre c'è il retroscena di Lario Rombardo e torna ora un patto fino al 2023 ma c'è l'ombra del rimpasto la telefonata del presidente del consiglio del segretario del PD allenta la tensione verifica per riscrivere il programma crescono i timori per il riassetto invocato da Renzi questo sul nonostante poi Renzi Italia Viva Boschi in tutte le cose che abbiamo letto abbiamo sempre negato che ci sia questa richiesta ma invece la richiesta di un rilancio del programma e del patto di legislatura sui contenuti però invece per i giornali ovviamente perché quando qualcuno dice una cosa è il fatto che l'interessato lo smentisca del tutto è rilevante e si va avanti perché si è deciso così ma andate allora con Daniele Preziosi alla pagina 3 del domani e il titolo è stavolta sul Messe il PD apre lo scontro e convoca Conte in Parlamento Zingaretti i soldi europei per la sanità noi li chiediamo il Premier eviti di provocare polemiche il Presidente del Consiglio si corregge confronto nella maggioranza dopo gli stati generali del Movimento 5 Stelle va bene questo è quello che ci dice il domani ma ovviamente del governo si occupano anche i giornali della diciamo opposizione il tempo a pagina 8 il titolo è ora Conte a tutti i contro è Luigi Frasca che scrive i sindaci contestano il DPCM del governo sulla movita a scaricare il barile assurdo poi la norma sparisce i sindacati della scuola scrivono all'amministrazzolina per chiedere un confronto urgente le nuove misure non concordate con noi se volete poi nel taglio basso c'è un'intervista di Gaetano Mineo a Michele Ansaldi che come sapete è un deputato di Italia Viva che dice il Premier e D'Amato hanno fallito richiamiamo subito Bertolaso il deputato di Italia Viva Michele Ansaldi dice nel Lazio sui tamponi regna il caos è assurdo questo a proposito delle polemiche che come sapete sono state avanzate anche da Giannini nei confronti dell'assessore alla sanità regionale D'Amato e non soltanto insomma c'è un po' di attenzione e Ansaldi dice ma questo diciamo secondo me prescinde poi dalle cose dalle critiche a D'Amato che Bertolaso è una grande risorsa che potrebbe essere utilizzata e invece non si sa per quale ragione questo non accade bene andiamo sul messaggero a pagina 11 e qui si mette così Zingaretti e Di Maio vice per Conte verifica insidiosa Marco Conti è in retroscena e anche qui torna sostanzialmente il rimpasto il leader PD attacca il premio sul sabba stati un tema così non si può liquidare con una battuta in conferenza stampa telefonata dichiaramento ora un patto di legislatura vedete che questo rimpasto che dovrebbe riguardare poi anche la promozione a vice di Di Maio e Zingaretti al momento non sembrerebbe proprio premare Italia Viva ma bensì gli altri partiti della coalizione ma insomma in tutto questo c'è rimpasto le cose si ritorna alla prima repubblica e allora voglio segnalarvi sul Corriere della Sera in prima pagina scusate a pagina 26 se non erro Mauro Malagutti che parla del difficile equilibrio tra riforme e sicurezza e fa riferimento all'ultima ricerca pubblicata qualche giorno fa dall'Ipsos su democrazia e corpi intermedi che conferma la fragilità del nostro sistema istituzionale due intervistati su tre dichiarano infatti di essere favorevoli a cercare un modo migliore per governare l'Italia di oggi rafforzando tendenze già esistenti prima del Covid la sfiducia verso le istituzioni aumenta fino a diventare largamente maggioritaria col crescere del livello di insicurezza personale causata dalla compresenza di una serie di fattori instabilità lavorativa a basso livello di istruzione marginalità territoriale qualità della vita affettiva e relazionale e dice tra l'altro Malagutti ora però e così conclude il prolungarsi della crisi cambia lo scenario mentre la domanda di protezione non è affatto destinata a ridursi diventerà sempre più difficile riuscire a garantire un ombrello per tutti il tema della simmetria dei costi di aggiustamento il fatto cioè che non tutti sono ugualmente esposti alla conseguenza delle crisi pandemica non potrà più essere eluso mentre alcuni settori per esempio i dipendenti pubblici sono sostanzialmente protetti altri hanno addirittura guadagnato per esempio i settori medicale e digitale e ci sono con parte a partire dal turismo e dal commercio e buona parte del lavoro indipendente che si confrontano col crollo verticale del reddito insomma problemi anche sotto questo punto di vista come segnala il Corriere della Sera passiamo ai partiti se volete c'è un'intervista sul Corriere della Sera pagina 15 a Luigi Di Maio per quel che riguarda i 5 Stelle ho solo tempo di leggere il titolo il movimento deve ripartire unito al terzo mandato mai proposto il ministro dice mi fido di casaleggio ma serve un punto di equilibrio tra la rete e i territori questo per quanto riguarda il movimento 5 Stelle per quanto riguarda il PD invece c'è la ormai diciamo periodica intervista che Maria Teresa Melli fa al guru del Partito Democratico Freddo Bettini e che ci dice l'aiuto UE va attivato ora un compromesso alto per fermare le imboscate ci sono tutta una serie di domande che non sono in grado di fare però vi leggo l'ultima dice lei si tiene lontano dalle beghe romane però avrà una parola da dire su calenda e risponde Bettini la prova elettorale nelle grandi città sarà decisiva nel capire se il risultato tra i regionali è stato un passaggio buono ma transitorio se stiamo all'inizio di una nostra vera ripresa di una crisi del blocco politico e sociale della destra stono per tentare ovunque alleanze con i 5 steli ma guai a imporre dall'alto soluzioni meccaniche esterne ai processi civici più larghi che possono maturare su Roma ho fatto il virgolette fioretto di non parlare di nomi non so cosa alla fine deciderà la raggi intanto sono emerse nel centro-sinistra energie di valore che vanno incoraggiate a correre si sta decidendo un percorso comune di ogni candidatura ritengo calenda una persona intelligente se accettasse di partecipare a esso con tutti gli altri ben venga se sceglierà lo strappo individuale buona fortuna ma rimarrà solo allora adesso questo ci consente anche di diciamo entrare nella vicenda di Roma su Calenda ci sono titoli su tutti i giornali è inutile che adesso ve li leggo posso fare una carrellata ma la cosa che è veramente singolare è che da quando Calenda si è candidato c'è un bombardamento di dichiarazioni al vetriolo al veleno quasi come se finalmente il partito democratico avesse attrovato il suo avversario su cui scaricare i propri strai non nel centro-destra ma o non nella raggi ma in Calenda cioè Calenda è diventato l'oggetto più utilizzato per diciamo per scaricare le proprie rabbie il proprio veleno forse anche diciamo le proprie frustrazioni per quello che il partito democratico ha fatto a Roma in questi anni ma insomma è allucinante cioè non si è viste dichiarazioni a raffica come quelle che si stanno accadendo da 48 ore contro nella destra nella raggi in dieci anni del partito democratico ma che volete le cose vanno così il nemico del partito democratico è Calenda perché non vuole fare le primarie va bene Repubblica siamo rapidi pagina 14 Roma il PD a Calenda corre alle primarie si pensa a quelle online e però già ha spiegato Calenda che alle primarie lui non parteciperà e quindi chissà che cosa faremo su questo ma se volete c'è il tempo a pagina 10 così vi faccio un po' di titoli e la chiudiamo qui perché poi c'è l'intervista Calenda PD è guerra totale l'idea di azione non sono andato e se non sono adatto lo dicano idem va contro i nostri valori divide la destra brinda cioè la destra brinda per Calenda che si candida non è che brinda per tutta la sequenza è la sequella di invettive che il PD sta tirando contro Calenda ma è veramente allucinante guardate è totalmente allucinante ma andiamo avanti abbiamo visto il tempo vediamo anche il domani perché anche domani adesso poi inizieranno anche i giornali non vi preoccupate a prendere a ceffoni ah ci già sta accadendo a prendere a ceffoni Calenda il domani ne parla a pagina 7 e la mette in questo modo Calenda corre sui social Zigaretti prova ancora a portarlo alle primarie del PD e Danielia Preziosi dedemma accoglienza agrodolce l'ironia degli altri candidati e il marchese del Grislo si riapre il processo a Virginia Raggi per falso prossimo odienza a novembre e vabbè di questo diciamo ce ne può fregare anche di meno per almeno per il momento va bene c'è anche ovviamente l'altro giornale romano che è il messaggero lo fa a pagina 13 gelo PD con Calenda a destra ipotesi Todini a fondo dell'ex ministro i dem non hanno nessuno si accontentino Zingaretti irritato oggi il vertice Salvini Meloni sulle candidature l'accordo è lontano e vabbè questo per quanto riguarda il centrodestra ma allora per quanto riguarda Calenda voglio segnalarvi la sua intervista oggi alla stampa a pagina 15 mi pare si ed è Francesca Schianchi con l'intervista prendo Roma con la competenza io elite ho fatto una vita normale e tra l'altro dice Calenda guarda caso ho cominciato ad avere un brutto carattere quando ho lasciato il PD sono solo diretto a proposito del carattere poi anche questa storia del parattere che palle ragazzi guardiamo le persone come funzionano vabbè le primarie si era detto che se c'è un candidato di peso si possono evitare io penso di esserlo e ancora farei un ticket con Fabrizio Barca e poi stimo Federica Angeli e Amedeo Ciaccheri la mia famiglia non è come si pensa mamma è regista ma non guadagna come Spielberg insomma è interessante questa intervista a Calenda in tutta la pagina 15 della stampa lasciamo Roma lasciamo Calenda vi voglio solo dare notizia perché ce lo dice il Corriere della Sera che per il PD i guai non finiscono mai perché a Napoli scrive il Corriere della Sera si affaccia all'ipotesi di Bassolino Bassolino avanza vedrò che fare imbarazzo nel Partito Democratico a volte ritornano diceva quello ma va benissimo ovviamente anche Bassolino chiudiamo con Napoli adesso passiamo a Davigo e vabbè insomma la notizia ve ne è data su tutti i giornali ma io ve la do a pagina 15 di Repubblica Davigo sconfitto con tradimento perché Davigo deve lasciare il CSM con 13 voti il plenum dice no è in pensione lascia la poltrona una legge approvata dal governo Renzi aveva anticipato ai 70 anni il limite per la permanenza in magistratura è Liliana Milella che scrive e però sapete chi ha votato per l'andata in pensione di Davigo il suo compare di magistratura ovviamente di Matteo e quindi diciamo qualcuno dice che c'è stata una faida all'interno dei giustizialisti per quanto riguarda la giustizia voglio segnalarvi sul riformista una questione che riguarda Consip ha ragione Sanzionetti nel suo editoriale di prima pagina Consip nessuno mai raccomandò a Romeo ma allora perché processano Romeo e dice dal 2008 perde tutte le gare e tutti gli appalti e si fa riferimento al fatto che quelli che parlano dicono che hanno semmai favorito altri che erano concorrenti di Romeo e non Romeo Autostrade su Repubblica e sul domani potete trovare notizie che riguardano Atlantia e Compagnia Bella soprattutto il domani è molto pesante per la pagina con Meletti così il ministro De Micheli ha aiutato Benetton mentre Palazzo Chigi si scontra con Atlantia e il ministero dei trasporti ha garantito pedaggio e dividendi che fanno salire il valore di autostrade da 7 a 11 miliardi su De Micheli vi segnalano tempo di leggere un corsivo di Crippa sulle foglie e poi vi voglio segnalare ancora sull'aggressione di Lanciano del Corriere della Sera a pagina 21 che parla di questa aggressione che è stata fatta da questa banda di ragazzi a un altro ragazzo 18enne e poi la notizia che voglio darvi invece la prendo dal messaggero che un po' di senso ritorna anche nelle decisioni della magistratura a pagina 19 scusate a pagina a pagina eccolo qua a pagina 15 vittima di stupro la stupro l'aspetto non conta sentenza sciocca annullata c'è la condanna vi ricordate che c'era stata una sentenza se non ho sbaglio di una corte d'appello che aveva assolto diciamo gli stupratori o ha ridotto le pene non mi ricordo perché la persona era vabbè lasciamo perdere con questo possiamo chiudere la segna stampa di oggi se volete sulla Turchia c'è qualcosa sul messaggero a pagina 14 scusatemi sulla stampa a pagina 19 a proposito del ruolo di Erdogan della Francia si parla sul messaggero a pagina 14 degli USA si parla per le elezioni sulla Repubblica a pagina 17 mentre sull'avvenire a pagina 15 ci si occupa della pena di morte che è stata ripristinata per quanto riguarda la Cina il Corriere della Sera a pagina 13 e poi c'è la Bolivia hanno vinto i socialisti la stampa a pagina 21 con questo è tutto e se volete ci sentiamo domani alla stessa ora alle 7 e mezzo grazie buona giornata a pagina 15 e a pagina 16 a pagina 17 an a pagina 17 a pagina 17